Dicono che quando è arrivata l'ambulanza i sanitari si siano trovati di fronte ad una scena straziante. Entrambi i giovani perdevano molto sangue distesi su questo marciapiede in mezzo a corso del popolo tra i licei Guggenheim e Franchetti. Erano da poco passate le 23. Pochi istanti prima Giacomo Gobbato e un amico, 50 anni in due, erano coraggiosamente intervenuti per soccorrere una ragazza che veniva rapinata. L'aggressore li ha colpiti entrambi con un coltello. Giacomo, 26 anni, è stato raggiunto all'addome e morto all'ospedale dell'Angelo un paio d'ore dopo. L'amico, feritato una gamba, è stato invece dimesso la mattina seguente. Il responsabile sarebbe un quarantenne di origine moldava, affermato poco dopo aver colpito al viso un'altra donna alla quale voleva portare via la borsa in via Leardi. Alle 11 di sera abbiamo sentito delle urla ma non abbiamo dato... io abito di fronte al PAM però abbiamo pensato di sovrì gli imbriachi insomma perché purtroppo capita spesso e volentieri, una volta è capitato dei trans che facevano a botte con, non so, con Magrebbini, è intervenuto l'esercito, la polizia alle tre di notte. Vedendo la telecamera durante questa intervista una tassista accosta l'auto. È vergognoso che noi lavoriamo in queste condizioni, io ieri sera ero fuori. La tensione a maestra è sempre più forte. È vergognoso che non lavoriamo in sicurezza. Giacomo Gobato era un artista, lavorava come tatuatore a Vicenza ed era attivista del centro sociale Rivolta che in un post lo ricorda col cuore spezzato come un compagno che nella sua giovane vita ha sempre lottato per una società inclusiva, multiculturale, antirazzista. Giacomo è morto perché non si è girato dall'altra parte, ha scritto il laboratorio climatico Pandora, non ha fatto finta che tutto andasse bene perché lottava contro le ingiustizie. Per aiutare una signora, come vita, perso vita, come c'è il mondo, vero? Spero salutare lui, va bene? Spero lui va in paradiso. Oggi Mestre è in lutto e sotto shock per una tragedia che è anche una drammatica denuncia di una situazione che non può più essere tollerata, una situazione che giovani come Giacomo vogliono o volevano cambiare.